Rieccoci nuovamente in studio, si è tenuto a Milano il congresso dell'Associazione Europea di Urologia, il più importante congresso di urologia al mondo insieme a quello americano. Tante le novità di cui hanno parlato 14.000 specialisti presenti. Do il benvenuto a Marco Strambi, ben ritrovato Marco, e il benvenuto anche al signor Vincenzo Gentile, responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Urologia e Andrologia del Policlinico Umberto I di Roma e direttore del Dipartimento di Urologia dell'Università La Sapienza di Roma. Allora professore, quali sono le principali novità emerse dal congresso? Sì, cominciamo a sottolineare quello che lei ha detto. Sicuramente il congresso più importante al mondo insieme a quello americano del settore. 14.000 specialisti, ma tra questi 14.000 ci sono i migliori specialisti del settore che portano i loro risultati, le loro esperienze cliniche in un confronto serrato. E inoltre c'è la presenza di numerose aziende leader del settore farmaceutico e tecnologico. La urologia è il settore in cui la tecnologia ha fatto dei passi enormi, inimmaginabili, per cui abbiamo delle possibilità incredibili. Basti pensare alla chirurgia robotica o alla chirurgia laparoscopica tridimensionale. Tutto questo migliora sicuramente il risultato funzionale della chirurgia e sono tecniche minimamente invasive. Dopo tre giorni il paziente, dipende dall'intervento, ma generalmente ha una licenza breve, va a casa. Ma, dicevo, sono tutte tecniche che migliorano decisamente i risultati funzionali. Una chirurgia moderna è quella chirurgia che, oltre a superare, a rimuovere la patologia, deve assicurare comunque una funzione. E la funzione di quell'organo, a ciò che è deputato. Ci sono anche altre cose da sottolineare. Quindi, oltre a questo, diciamo, confronto serrato su queste tecniche chirurgiche, anche dal punto di vista della diagnostica, ci sono dei grossi risultati. La risonanza magnetica con la diffusione è un esame che ci permette di fare una diagnosi precoce delle metastasi osse. E questo insieme alla PET-TAC, sicuramente superata la scintigrafia, o la TAC, per avere i risultati in questo settore. Tutti noi sappiamo che una diagnosi precoce si traduce poi in risultati clinici in guarigione, insomma, e migliore qualità di vita per il paziente. Dal punto di vista farmacologico, per esempio, molti farmaci sono stati portati dei risultati clinici sull'utilizzo degli agonista beta-3, dei recettori beta-3. Il nome non deve preoccuparci più di tanto. Si tratta di migliorare i sintomi di chi è affetto da una vescica iperattiva, per cui ha dei disturbi menzionali di un certo tipo. Oppure nuovi farmaci nel campo del carcinoma prostatico. Il tumore della prostata è un tumore che con una diagnosi precoce, sicuramente va operato e si assicura la guarigione clinica. Però ci sono delle forme avanzate in cui avere dei farmaci a disposizione, delle forme avanzate che spesso non rispondono nemmeno alla terapia ormonale, avere dei nuovi farmaci significa allungare la vita del paziente. È molto importante questo. Ecco Marco, so che tu sei stato al congresso e hai avuto modo di parlare con il dottor Castiglioni. Che cosa vi siete detti? Sì, a curiosare un pochino al congresso, abbiamo visto uno studio, è stato presentato uno studio che parla di terapie per l'ipertrofia prostatica e benigna e la disfunzione rettile. E quindi abbiamo intervistato il professore, sentiamo. Ascoltiamo. Uno studio multicentrico internazionale che ha dimostrato che pazienti che hanno problemi di svuotamento della vescica, quindi disturbi minzionali e che contemporaneamente hanno problematiche di disfunzione rettile, possono trarre beneficio dall'utilizzo combinato di un farmaco che è sempre stato utilizzato per i disturbi del svuotamento vescicale, quindi alzarsi di notte a urinare, far fatica a urinare soprattutto al mattino, urinare frequentemente, che è la finasteride, in combinazione con un farmaco che viene utilizzato per curare la disfunzione rettile. Questo farmaco è il Tadalafil e si è dimostrato che utilizzando assieme questi due farmaci si hanno dei benefici sui disturbi minzionali significativamente superiori al farmaco utilizzato solamente la finasteride. Quindi è un'arma in più che abbiamo a disposizione noi urologi e andrologi per curare questa categoria di pazienti. Il meccanismo è sinergico, nel senso che la finasteride è stato dimostrato a ridurre il volume prostatico e quindi ridurre l'ostacolo meccanico allo svuotamento della vescica, mentre il Tadalafil, che è un farmaco che determina un rilasciamento della muscolatura liscia dei corpi cavernosi, e quindi facilitando l'erezione, è anche in grado di agire su dei recettori che sono presenti all'interno della prostata e del collo vescicale, determinando appunto il rilasciamento di questa muscolatura e quindi facilitando lo svuotamento della vescica. Quindi un meccanismo assolutamente sinergico dei due farmaci. Un vantaggio sicuramente che si è visto in questi pazienti è il fatto che la finasteride in una percentuale di pazienti che va intorno al 5-10% può dare un disturbo della sfera sessuale, che è ben compensato invece dalla facilitazione dell'erezione che viene svolta invece dalla Tadalafil. Professor Gentile, perché usando insieme questi due farmaci si ottiene un risultato migliore? In un certo qual modo, il dottor Castiglioni l'ha detto, perché sono farmaci che hanno due meccanismi di azioni diverse, ma naturalmente che vanno poi a migliorare la sintomatologia del paziente con disturbo eminzionale che è tipico del paziente prostatico. Perché? Perché la finasteride è un farmaco che agisce soprattutto sul volume della prostata, quindi diminuisce il volume che crea un ostacolo allo svuotamento vescicale. e il Tadalafil invece cerca di migliorare, migliora anzi decisamente, sono stati fatti dei trial clinici, migliora quelli che sono i sintomi irritativi di questi disturbi eminzionali. Mi spiego meglio. I disturbi eminzionali in un soggetto affetto da ipertrofia prostatica sono caratterizzati da disturbi irritativi che sono la frequenza eminzionale, il sentire bisogno di urinare spesso, dopo un'ora, due ore, l'urgenza eminzionale, quindi devo correre continuamente, la notte mi alzo diverse volte. Tutti questi sintomi incidono fortemente sulla qualità di vita, perché il soggetto si sente in difficoltà. Ora, e poi ci sono i sintomi invece legati all'ostruzione, che è spiegabile facilmente, è un meccanismo legato a una riduzione del canale uretrale, per cui il getto sarà più sottile, ci sarà uno sgocciolamento finale, e quindi come tutti i pazienti prostatici sanno. Migliorare i sintomi irritativi, per il meccanismo che ha detto il collega, è una cosa importante. Quindi un meccanismo sinergico, che da un lato va ad agire sul volume della prostata, e quindi la causa dei sintomi e dei disturbi eminzionali, perché i sintomi irritativi è un tentativo di superare l'ostacolo. E con, naturalmente, quindi con la finasteride, andiamo ad agire sulla causa. E con il Tadalafil agiamo sulla questione, naturalmente, dei sintomi irritativi attraverso questo rilasciamento. Che poi, bisogna dire che il Tadalafil agisce a questi risultati attraverso la nuova posologia, che è il Tadalafil 5 mg, perché in questa nuova posologia si può assumere quotidianamente una compressa al giorno. Ed è stato visto in numerosi trial clinici, che questa assunzione quotidiana migliora anche i sintomi urinari, oltre ad essere curativa della disfunzione erettile. Professore, io la devo interrompere, perché il nostro tempo a disposizione è terminato. Grazie al professor Vincenzo Gentile per essere stato qui con noi, e grazie anche a Marco Strambi. Adesso è arrivato il momento del nostro Tg, quindi spazio a Salute News. A tra poco.